La telemedicina e le app evolute sono diventate sempre più importanti soprattutto grazie all'effetto covid. Noi oggi vogliamo parlarvi di quella che può essere considerata la massima espressione della medicina digitale, i cosiddetti digital therapeutics, che ci facciamo raccontare dal professor Roberto Caporali che abbiamo incontrato qui a Milano in occasione del congresso nazionale del Gisea. Professor Caporali, cosa sono esattamente questi digital therapeutics di cui si incomincia a sentir parlare? Cosa vuol dire? Domanda estremamente pertinente perché se ne parla molto ma probabilmente nessuno sa ancora bene cosa sono. Innanzitutto quello che voglio dirvi è quello che non sono, quindi non sono una nuova app della salute, non sono un sistema per aumentare il movimento piuttosto che imparare a mangiare meglio. Sono veramente una vera e propria terapia digitale. Terapia digitale non vuol dire che questa è una nuova terapia che si sostituisce ai trattamenti che noi siamo abituati ad utilizzare, quindi farmaci eccetera, ma vuol dire che questo tipo di terapia migliorerà in maniera drammatica, mi lasci dire, quelle che sono le potenzialità terapeutiche dei farmaci tradizionali. Ecco, possiamo dire che sono dei software evoluti oppure è una definizione un po' riduttiva? Non è che sia riduttiva perché alcuni di questi sono davvero software importanti ma altri sono anche molto semplici perché il modo con cui viene in passi il termine somministrata la terapia digitale può essere attraverso un software molto semplice, un gioco, una app sul telefonino davvero, ma quello che è importante in tutto questo non è tanto questo tipo di somministrazione, quanto la capacità che eventualmente il paziente ha di migliorare drammaticamente la risposta della terapia con tutto questo. Ecco perché la cosa interessante, perché mi sono un po' documentato, è che i digital therapeutics per essere definiti tali vengono sottoposti a studi clinici randomizzati e controllati esattamente come i farmaci, ecco ce ne parla? Esattamente questa è la differenza principale, quindi questa è veramente una terapia e come tutte le terapie deve essere, primo, approvata dei nostri organi regolatori, secondo deve andare incontro a una validazione esattamente come i farmaci attraverso una fase 1, una fase 2, 3, 4 come tutti i farmaci, solo dopo questa iter può essere approvata e quando è approvata questo tipo di terapia viene anche dispensata dal sistema sanitario nazionale a testimonianza del fatto di quanto questo sia importante. Ecco questo in Italia non è ancora avvenuto però in Europa mi pare che in qualche paese sia già così. In Italia non è ancora avvenuto, Stati Uniti e alcuni paesi europei hanno già sviluppato dei modelli, non in malattie reumatologiche, prevalentemente in malattie croniche di tipo cardiovascolare, ripertensione ad esempio, anche diabete, in patologie da abuso di farmaci ad esempio e in patologie di tipo psichiatrico e in tutte queste patologie i risultati ottenuti sono veramente molto buoni. Ecco possono sostituire i farmaci oppure consentire di utilizzare meno farmaco? Cioè hanno questo scopo oppure ne hanno un altro? Assolutamente non sono terapie alternative, quindi non sostituiscono i farmaci, sono terapie che permettono al paziente di applicarsi meglio al trattamento che sta seguendo, con consigli, con modalità di lifestyle modification, con tutte queste cose. Quello che noi vogliamo fare è implementare il processo di risposta al farmaco, quindi questa è un'azione non più di molecola più o meno valida, la molecola più o meno valida rimane, ma noi vogliamo implementare la sua efficacia. Senti, veniamo alla reumatologia che è naturalmente il suo ambito professionale, ecco, che ruolo possono avere, come possono aiutare appunto i malati reumatici nella loro vita quotidiana? Io credo che i malati reumatici, in particolare i pazienti con attrito reumatoide, abbiano uno stretto bisogno di questo. Noi sappiamo che l'aderenza alla terapia nell'attrito reumatoide è particolarmente bassa, vuoi per paure, vuoi per informazioni non corrette, vuoi per, come dire, dimenticanze piuttosto che difficoltà. Ora, l'applicazione della terapia digitale assieme alle terapie che noi sappiamo essere molto efficaci nella trite reumatoide potrebbe aiutarci a far funzionare queste terapie molto meglio e quindi ad avere dei risultati decisamente migliori utilizzando le stesse terapie che stiamo utilizzando adesso. Perché no? Anche permetterci magari di ridurre un pochettino il carico terapeutico in alcune situazioni, in particolare per alcuni farmaci particolarmente fastidiosi per il paziente e anche per noi, devo dire, come ad esempio il glucocorticoide, il cortisone. Sempre sotto il controllo medico? Assolutamente, questa è una terapia e come tutte le terapie va assunta sul consiglio del medico e sul controllo del medico.